Non ho capito nulla, nulla a ciò che non vogliamo fare qui in Corsica. L'educazione deve essere usato il servizio di una comunità, si deve piegare la volontà di questa comunità che deve utilizzare, di improdare la nostra lingua con dei mici amori. E io, semplicemente, voglio studiare il giorno, e io non ho capito. E sicuramente voglio studiare il giorno quando ha detto che sono qui.